Nome? Beatrice. Cognome? Arbues. Cos'è che fai te? Io faccio un corso di canto. Nella lezione facciamo dei vocalizzi per allenare la voce e proviamo anche delle canzoni. E com'è che ti sei avvicinata al canto? Cos'è che te l'ha fatto preferire rispetto magari al fatto di suonare uno strumento? Allora, anche sin da piccola andavo con mia mamma alle lezioni di canto perché anche lei praticava un corso di canto e da lei mi è piaciuto molto. E da grande vorresti magari diventare una cantante o hai qualche altra idea, qualche altro progetto? Mi piacerebbe diventare una cantante. Nome? Chiara. Cognome? Marchina. Cos'è che fai te? Canto. E cos'è che ti ha fatto decidere di cantare? C'è qualcosa in particolare che ti ha spinto a provare a iniziare a cantare? Perché continuavo a cantare da piccola. E da grande vorresti affermarti come cantante o magari hai già in mente qualcos'altro che ti piacerebbe fare? La veterinaria. Nome? Sofia Raffelli. Cos'è che fai te qui musicalmente? Canto moderno. E cos'è che ti ha fatto appassionare al canto moderno? Te l'ha fatto preferire rispetto al fatto di suonare magari altri strumenti? Ho provato chitarra da piccolina ma non sentivo che fosse il mio strumento. Quindi ho provato il canto e alla fine mi sono innamorata. E da grande ti piacerebbe diventare magari una cantante apprezzata oppure hai già qualche altra idea? Forse non si sa perché non... non so cosa mi aspetta. Nome? Nicole. Cognome? Montini. Cos'è che fai te? Canto e suono anche la chitarra, però principalmente canto. E cos'è che ti ha fatto scegliere il canto e la chitarra e preferirli ad altri strumenti? In realtà perché ho sempre avuto una grandissima passione per la musica tramandata principalmente da mio padre. E ho iniziato da piccola con la chitarra, ho suonato qualche anno, poi ho smesso e ho iniziato in prima superiore a cantare. E adesso sono otto anni e mezzo che canto e un anno e mezzo che ho ricominciato a suonare la chitarra. E da grande ti piacerebbe magari sfondare nel mondo della musica e altri progetti? Sinceramente preferisco tenerla come passione. Mi piace così come è semplice. Così. Nome? Sofia. Cognome? Shaban. E cos'è che fai te? Canto. E quando è che hai deciso di provare a iniziare a cantare? Cos'è che ti ha spinto verso il canto piuttosto che verso altri strumenti da suonare? Perché anche a casa cantavo e mi piaceva e lo facevo anche come hobby e quindi mi ha spinto questo a venire qua. E quando è che hai iniziato a cantare? Non lo so. E invece da grande hai qualche sogno nel cassetto? Vuoi magari affermarti come cantante o hai qualche altra idea? Cantante. Nome? Valentina Rovetta. E cosa fai te con l'Accademia Musicalmente? Ma studio canto moderno. E cos'è che ti ha fatto appassionare al canto moderno? Te l'ha fatto preferire magari il fatto di suonare uno strumento? Ma ho imparato a suonare chitarra però cantare mi è sempre piaciuto. E da grande invece cosa ti piacerebbe fare? Ma da grande preferirei tenere il canto come hobby perché mi piacerebbe fare il medico. Allora i vostri nomi? Rebecca Serra. Greta Lonati. E cos'è che fate voi? Canto. Com'è che vi siete avvicinate al canto? Cos'è che ve l'ha fatto preferire magari rispetto ad altri strumenti? Io facevo violino ma poi ho visto che mi piaceva un po' di più il canto quindi ho iniziato a fare canto. Io perché anche da piccola ascoltavo sempre le canzoni dello Zucchino d'Oro allora mi sono appassionata. E da grande invece cos'è che vi piacerebbe fare? Non lo so. La cantante.